A San Giusto Canavese torna la collettività, la villa del narcotrafficante Nicola Assisi, le nostre telecamere nella struttura che accoglie giovani e famiglie. Una canvella giudiziaria consegna spesso notizie di ville o beni di lusso confiscati alla criminalità organizzata. Sovente però il riutilizzo per finalità sociali è lento e faticoso anche in Piemonte. Oggi vi portiamo in un luogo che si appresta invece a rinascere. Marzia De Giuli. Queste sono le regole che si sono dati i ragazzi. Esatto, i ragazzi che hanno partecipato al campo estivo della legalità si sono voluti dare delle regole proprio perché hanno dovuto condividere degli spazi comuni e soprattutto gli spazi che hanno una valenza importante. È un simbolo della vittoria dello Stato contro le mafie la villa confiscata al narcotrafficante Nicola Assisi a San Giusto Canavese. Oggi in quello che fu il suo nascondiglio possiamo entrare con le telecamere. Nel 2018 la villa costruita con i soldi della droga fu liberata dai familiari del boss dell'Andrangheta poi arrestato in Brasile. Fallì il tentativo di qualcuno di farla saltare in aria per non vederla in mano alla collettività. Una bombola di gas fu trovata qui, proprio in questa zona. Dove oggi brillano le parole di Marcella Di Levrano, testimone di giustizia uccisa dalla Sacra Corona Unita. Il bene, ora di tutti, è dedicato a lei. La cooperativa Anteo oggi mette questi grandi spazi a disposizione dei giovani e di famiglie in difficoltà. Tutto è pronto anche per un progetto di accoglienza di persone disabili. Siamo già a buon punto, speriamo che la burocrazia ci aiuti in questo senso per ottenere l'autorizzazione. Nel giardino si lavora gli ultimi ritocchi, una rampa per il passaggio delle carrozzine, lì dove le forze dell'ordine trovarono milioni di euro e decine di Rolex sottoterra. Una vittoria ottenuta col grosso aiuto di Libera, che ammonisce, c'è ancora tanto da fare. Il Piemonte è la seconda regione del Nord Italia per beni confiscati, ce ne sono circa 350. Di questi però ne vennero utilizzato soltanto in media il 23%. Le collusioni e l'inconsapevolezza, l'iter burocratico, le forze in campo, le occupazioni, i fondi, i mutui, il percorso è pieno di ostacoli che però non fanno arrendere chi combatte le mafie. Un elemento positivo che secondo me va detto è che nell'ultimo mese ben due beni confiscati che erano occupati sono stati liberati. Quindi questo è un periodo nel quale stanno avvenendo in provincia di Torino dei passi importanti.